Il cimitero di Ostigliano Il cimitero di Ostigliano Il cimitero di Ostigliano Rio, rio confesso, quel rio che si deve aggiungere alla rosa, che è quella mia santa zia nata nel giorno dell'esaltazione della santa croce di sua mamma. Che necessità perché si ripeta nuovamente in un figlio di Dio quel sacrificio? Che peso dare a questa morte oggi in cui vediamo che la morte quasi non conta più nulla perché ci sono oramai centinaia di martiri di Allah che si uccidono nel segno di una fede stravolta per uccidere e seminare il terrore. Che valore dare proprio oggi alla morte di chi muoia ancora nel segno santo di un figlio di Dio che accetta di essere sacrificato? Non che si uccide, che accetta di morire pur di confermare una grandiosa verità. Il figlio è nella stessa natura e nella stessa sostanza del padre, qualsiasi figlio nella sua essenza e nell'essenza totale, globale del padre, che è l'unica essenza in grado di dargli entità nell'equilibrio dell'insieme di tutto l'essere. Questa essenza che accetta il proprio sacrificio per il bene poi proprio di quella globalità perché si avverte la necessità assoluta di questo sacrificio personale a vantaggio di tutti. Quindi lo si avverte con forza e la preghiera di chi si ritrova in queste condizioni come io mi ritrovo, la preghiera che uno come me fa al suo Signore, espressa proprio in questo luogo della morte e della resurrezione, è questa. Padre, dammi la grande gioia di poter essere sacrificato su quell'altare in cui tu chiedesti ad Abramo fosse sacrificato suo figlio. C'è bisogno di un figlio che volontariamente si offra al sacrificio, c'è bisogno per equilibrare, per esorcizzare tutte queste morti che oggi sono compiute nel segno del terrore da dare al mondo. Perché sarebbe il terrore il modo con il quale chi si pasce nell'abbondanza e crede che non debba essere affrontata una santa guerra per il riscatto dei deboli, degli ultimi, degli oppressi, possa fare qualcosa senza tuttavia imbracciare le armi, rivolgendosi a quel Padre Santo che è il promotore, che è la causa di tutto ciò che accade. Dunque, qual è la differenza? Qual è il perché di questo ritorno che doveva esserci oggi in un figlio di Dio che ripristinasse il senso della verità? Il bisogno nasce da una verità che oggi è stata sovvertita, è stata ribaltata. Questa verità, messa nelle sapienti, per modo di dire, mani dei dottori della Chiesa, che hanno esaminato la sapienza di Dio in base alla sapienza dell'uomo, poco alla volta ha assunto tutti i connotati di una sapienza umana ed ha perso ogni stima per la fede nel Dio unico che dispone tutte le cose con sommo equilibrio, e con sommo a giustizia, dando anche il male, ma quel male che a lungo termine si rivelerà poi il massimo bene possibile perché consentirà lo stesso bene di essere concepito, di essere gustato, consentirà la stessa possibilità di una partita tra il bene e il male, tra la sconfitta e la vittoria che termini con la vittoria. Senza questa divina partita tra il bene e il male non ci sarebbe neanche una sconfitta di Satana. La necessità soprattutto di un ritorno dell'ideale di Gesù, non sovvertito, non umiliato, non capovolto, tanto che per Gesù il giovane ricco non sarebbe entrato nel regno dei cieli con i suoi mezzi, e questo aveva scandalizzato i discepoli di allora. Come, signore, se neanche quel bravo giovane entra? Chi allora entra? Bene, dopo 2000 anni di cristianesimo nelle mani dei dottori della Chiesa, l'ideale è restato quello del giovane ricco. Purtroppo, secondo questa ottica, ce n'è troppi pochi di giovani ricchi così bravi. Bisognerebbe che tutti fossero esattamente come il giovane ricco, una persona consapevole, capace, scrupolosa, desiderosa della perfezione e che lavora incessantemente per arricchire la propria persona di valori, di tutti i tipi, ideali, reali, perché solo chi possiede questi valori poi può darli. Insomma, quel Dio padre in grado di far scaturire figli di Abramo dalle pietre sarebbe condizionato dalla presenza di questi figli di Abramo. Guai se non ci fossero questi giovani ricchi! Cosa potrebbe mai fare Dio? E allora ecco che perfino il Papa si affida con scrupolo all'uomo perché educhi se stesso fino a divenire il massimo ricettacolo di una virtù posseduta personalmente e non di quella assoluta povertà di se stessi di chi dice signora io non so nulla io ho la vista troppo corta perché vedo solo oggi domani arrivo solo a percepire la lunghezza della mia vita ma poi che cosa sarà nei secoli dei secoli io lo ignoro per cui io non so se oggi il mio sacrificio è necessario per la salvezza dei popoli a venire no quest'uomo presuntuoso arriva a volere decidere tutto oggi che cosa è il bene e che cosa è il male e se Dio vadate Dio abbatte le due torri gemelle se Dio fa in modo che il Dio degli eserciti dell'uomo muova guerra al paradiso terrestre storico se è vero che Dio scatena lo tsunami e fa negare nuovamente i cultori del sole il giorno dopo Natale che invece di celebrare il sole della croce che nasce vanno a preferire il sole della natura quel Ra il cui culto era in Egitto opponendosi così alla salvezza che Dio vuole portare da questa terra d'Egitto della schiavitù dell'uomo in cui l'uomo può solo accettare quello che Dio gli manda e allora Dio colpisce insegnando no per l'uomo queste sono disgrazie queste sono cose che perché accadono perché tu Signore le mandi perché uccidi tutti questi innocenti per l'uomo tutte queste morti sono disastri sono abbandoni della vita per l'ottica di Dio tutte queste morti sono invece promozioni sono l'uscita da questa terra d'Egitto della schiavitù da un Dio che ti manda quello che ti manda e che tu devi sorbire bene e male bene e male affinché tu ti educhi per abbracciare quella al di là in cui poi tu scegli e osservi a tuo modo di vedere con la tua libertà il bene toccato al prossimo tuo per gioire eternamente solo di quanto ti sarà bello, utile confortevole osservare tutto quello che avrà avuto il prossimo che avresti voluto tu e grazie a questo sacrificio di quello che è stato dato a te tu sei in grado di desiderare per sempre come un eterno imprinting che ti consente di gustare e vedere quanto è buono il Signore in ogni bene mandato al prossimo ma l'ottica diversa dell'uomo che vede nella morte la fine anziché la promozione verso la vita eterna porta ad attribuire a Dio pesanti responsabilità pesanti colpe e l'uomo si oppone a che Dio pensate quel Dio onnipotente che manda tutto quello che deve venire perché educhi l'uomo anche quando si tratta dell'abbattimento delle due torri gemelle a indicare come la Chiesa cristiana abbia abbattuto le due torri gemelle fede e ragione volute sorte dal Papa Giovanni Paolo II che la Chiesa saronnese ha stroncato abbattuto non riconoscendo assolutamente la verità delle cose fatte dire a me da Dio in presenza di una cosa così che cosa bisogna dire? bisogna dire che c'è veramente il bisogno di un rispolvero della verità ma ora affrontata sotto l'aspetto vero l'aspetto vero delle cose non è questa realtà è quella di cui Gesù Cristo è il re Gesù lo diceva io sono il re di un altro mondo eppure il suo Vangelo è stato usato per imporlo assolutamente solo in questo mondo nessuno quasi spera prega per andare nel mondo di Gesù perché teme la morte la paventa come la fine di ogni cosa rimane annegato in questo disegno che Dio fa e non è capace di uscire da questo modo di vedere reale e imprigionato in questo scenario della divina commedia di Dio tanto che nessun uomo riesce a salire al livello del creatore di questo disegno un canto cristiano canta così Dio si è fatto come noi per farci come lui ecco in questo canto sono espressi i due tempi della salvezza il primo tempo è Dio si è fatto come noi Dio è sceso nel suo disegno si è impersonato nel suo disegno prima come Gesù e poi tornando come il padre il figlio lo spirito santo in questa persona che vedete davanti a voi in modo consapevole e in tutti voi in cui la stessa trinità è presente ma che voi non riuscite assolutamente a scorgere non per incapacità per il disegno di Dio in questa divina commedia della vita in questa divina commedia della vita il personaggio solo unico in cui il Dio della consapevolezza si impersona senza alcun merito è toccato alla mia anima che è uguale alla tua a cui è toccato soltanto di dire io sono il personaggio dite tutti voi io sono il personaggio solo io oggi e qualche altro che Dio vuole per farvele la differenza tra chi lo fa esaltandosi e chi lo fa con una giusta esaltazione cioè con una giusta sovradimensione dei valori tanto da uscire da questo mondo va a dire solo a me a me per esempio a quel alia che c'ha che si pone consapevolmente afferma sono Cristo ma tutti voi potete giudicare se questa affermazione poi possa essere rapportata al Cristo della salvezza quando il personaggio attenta alla vita di un'altra persona ed è addirittura quella del Papa il Signore manda chi dice sono Dio manda chi dice sono Gesù Rinato sono Buddha Rinato eccetera ma poi lo fa perché si colga anche la differenza tra chi lo possa essere veramente e chi non lo possa essere a giudizio proprio espresso attraverso i valori delle cose affermate ma quando questi giudizi che sentite da me sono gli stessi di Gesù Cristo allora dovete realmente credervi se l'ideale di Gesù Cristo non si sia veramente incarnato in una persona e il mio ideale è esattamente quello suo io non dico che peccato che ci siano pochi giovani ricchi io dico che peccato che ci siano tanti presuntuosi che si arroghino il merito delle cose che Dio ha attribuito al personaggio Dio solo l'uomo dovrebbe avere solo il buon senso di accorgersi di una condivisione di di un essere l'attore di questa parte che Dio ha dato l'attore non lo scrittore ma non lo fa per cui lo stesso Gesù venuto nel mondo è stato acchiappato dal mondo ha servito dal mondo e per quanto si sia sforzato Dio a far trasparire attraverso il suo figlio la necessità della comunione con Dio Dio stesso ha disegnato un uomo incapace di questa comunione nessun uomo alla fine della comunione di una comunione santa celebrata nel cristianesimo che si sente dire ma tu chi sei risponde io sono nella mia essenza l'essenza del figlio di Dio che è un'essenza unica quindi è l'essenza di Gesù invece nella mia corporeità sono la mia persona reale per cui con la comunione c'è stata una comunione tra la realtà della mia persona fisica e l'essenza di Gesù io sono nella mia essenza quella profonda di Cristo tutti dicono io sono in comunione con Cristo e spero che verrà nessuno dice è venuto al punto tale che sono il figlio di Dio perché gli sembra un peccato essere il figlio di Dio sembra all'uomo un peccato per quel satana che ha talmente contorto la logica dell'uomo tanto che chi voglia essere Dio non sia il figlio migliore possibile ma è peggiore uno preso di smania di grandezza ma è così solo quando si confonde Dio con Satana perché il Dio della grandezza che usa la sua grandezza per attuare le ingiustizie e le sperequazioni è Satana invece Dio il Dio della grandezza come ci ha insegnato Gesù Cristo è il Dio dell'abnegazione santa di se stesso tanto che pur essendo Dio si incarna nell'uomo ed è l'uomo senza più alcuna apparente grandezza questo Dio è il Dio vero desiderare di essere Dio significa desiderare essere il Dio della benegazione personale ed è la massima possibile virtù non intesa però come questa ma come il massimo peccato di orgoglio perché Satana ha capovolto tutti i giudizi e bisogna raddrizzarli per questo c'è bisogno di un ritorno di Dio che finalmente possa afferrare tutto alla divina commedia in cui l'uomo è sommerso compreso suo figlio e fare l'uomo come Dio alzandolo a livello sublime di quanto sia a livello del creatore e non della creatura questa seconda parte del canto per farci come lui il Signore ancora non l'ha fatta l'uomo per quanto si sia messo in comunione con Dio è sempre rimasto l'uomo non si è mai elevato veramente al livello della comunione con Dio restando sempre la persona singola e mai mettendosi in una tale comunione con tutto l'insieme da sentirsi tutto l'insieme ogni uomo è stato portato da Dio sempre a sentirsi se stesso quindi c'era bisogno di questo livello sublime a cui alzare ogni uomo affinché passasse dal livello contenuto nella divina commedia a quel Dio che sostiene la divina commedia come è attuato fondamentalmente è attuato attraverso chi dica all'uomo ad ogni uomo tu essenzialmente sei Dio bisogna che tu riconosca nel tuo limite la presenza sublime di un Dio che ha assunto nel tuo limite la sua croce e porta in giro la tua croce è questo Dio che porta la croce è questo Dio che è venuto alla ricerca della verità che ha fatto venire l'uomo fin da 27 secoli alla ricerca della verità e ai piedi della montagna della stella ha fatto scoprire il fondamento dell'essere quel fondamento che è il fondamento di ogni creato ed è il creatore se l'uomo non sublima la sua vita resta sempre intrappolato in quella divina commedia piena di morte piena di dolore piena di una sofferenza patita come il massimo male se Dio nella persona di Gesù ha chiesto al giovane ricco diventa povero soffri anche tu gli ha posto davanti l'ideale della perfezione che non è la ricchezza di valori qualunque essi siano ma è la tale povertà di valori su un credito dato esclusivamente alla propria persona se staccata da Dio per riconoscere la validità di quel prodotto tra la parte ennesima e tutto l'enne che ripristina Dio quel Dio uno come quella forza strepitosa che agisce su qualsiasi valore ennesimo e lo fa esistere sempre sia come quello che ha ora sia come tutto quello che gli manca e che lo completa lo completerà come una forza ecco ora deve accadere questo prodotto di un ennesimo per n tanto che diventi uno e si affermi la realtà dell'essenza del Dio unico ora deve accadere e deve accadere come riconoscendo nell'uno fratto n nel valore ennesimo che è ciascun uomo in quell'uno che sta come il numeratore di n tutto l'uno tutte le n quantità ennesime tanto che nel valore ennesimo si è riconosciuta l'unità in cui assolutamente e solamente può esistere la parte non può esistere da sola la parte può esistere solo se prima esiste il tutto riconoscere che l'uomo possa esistere in parte come quella parte che è toccata all'uomo a mano a mano che egli vive la sua vita è un dar credito a una bugia la parte da sola non può esistere perché è proprio una parte di una parte dell'unità e quindi quella cosa che vale è l'unità nel valore uno fratto n l'uomo deve riconoscere come uno il valore di dio il valore del totale il valore n perché lo è la parte da sola non può esistere l'essere non può essere che in tutto l'essere e allora l'uomo se vuole veramente abbracciare la sua verità e uscire da questo disegno determinato quindi parziale quindi momentaneo cosa deve fare deve riconoscere la sua appartenenza nel disegno globale complessivo totale in quello che noi chiamiamo dio ecco per farci come lui è ottenuto attraverso me che ti dico o amico che mi ascolti tu sei dio e tu sei dio e tu sei dio e voi e tutti noi non siamo la parte siamo l'insieme che si è calato nella parte ed esercita l'onnipotenza di dio dire che dio è onnipotente vuol dire che è il tutto e il suo contrario che non soggiace di una visione qualunque essa sia anche come la sovrabbondanza del tutto perché se lo facciamo esistere come la sovrabbondanza del tutto allora deve esistere anche il niente perché dio è tutto e niente e sono i due valori che messi assieme formano l'onnipotenza la possibilità di essere tutto ora se fate fatica a capire una cosa del genere come sia possibile io per farvelo capire mi riferisco a un sistema che comprenda tutto il possibile il totocalcio sapete che tutti i giocatori fanno il loro pronostico quando il pronostico è libero accade che in certe partite c'è una quantità enorme di 13 quando c'era il 13 ma non è così la vita nella nostra vita nessun nessuna previsione è esattamente uguale a un'altra perché sono state tutte attribuite all'interno di un sistema onnipotente fatto da 13 triple nel sistema di 13 triple non c'è evento che possa accadere che non sia previsto di conseguenza noi possiamo confrontare per capirlo l'onnipotenza di Dio a quella del sistema integrale ho anche spiegato che poi i valori legati al nostro modo di vedere sono proprio condizionati a quel 10 alla quarta cioè a 10.000 unità che sono quelle ideali a partire dal modo di vedere il tempo come una dimensione e dal modo di vedere lo spazio come l'interazione tra tre dimensioni tanto che poi lo spazio più il tempo formano quattro dimensioni in potenza che noi osserviamo con la base 10 e 10 alla quarta 10.000 esprime quello che potremmo dire sono tutte le colonne di una possibile previsione uguale e distinta Dio si avvale solo su se stesso Dio è talmente fondamentale che non ha bisogno di altro per esistere quindi esiste in base a questo concetto di 10.000 quantità viste come base per cui il totale delle possibilità legate alla dimensione essenziale percepita dall'uomo è proprio data da un universo che comprende tutti i tempi e tutti gli spazi di una possibile percezione dell'uomo fondati da 10.000 in potenza di 10.000 unità ma in effetti poi questo universo va anche oltre perché perché non è un qualcosa di reale che esiste veramente è un qualcosa che esiste se percepito dall'uomo mediante delle divisioni lo dicevano perfino gli antichi romani Cesare lo diceva se vuoi comandare divide e timpera dividi e comandi è in questo modo che Dio opera crea la divisione tra parti che però sono moltiplicate tutte tra loro e quindi determina una vita di relazioni di interazioni che sono questi prodotti che a mano a mano che sono fatti e sono fatti tutti si ripristina l'unità la nostra realtà è percepita quindi per divisione se noi arrivassimo al limite estremo dell'universo sensibile che possiamo vedere e che è condizionato appunto da questi 10.000 elevato a 10.000 unità noi sposteremmo semplicemente questo apparato di percezione fino a quell'estremo limite e scopriremo che non siamo al limite dell'universo ma che siamo sempre al centro di questo universo perché anche nel verso finale diciamo di questa cupola il cui limite estremo è la nostra possibilità a mano a mano che noi spostandoci verso quel limite introduciamo verso quel limite nuove suddivisioni noi riusciamo a cavare dal tutto nuove dimensioni perdendole da quest'altro lato quindi l'universo che esiste esiste solo come una capacità e una possibilità di riuscire a dare forma reale concreta semplicemente a delle ripartizioni numeriche io vi sto parlando dell'italiano che è la lingua in cui Dio sta dicendo la verità e la sta dicendo ve lo sto raccontando ma non l'ho ancora spiegato perché perché in me si è presentato in me italiano e ha voluto che la lingua italiana fosse la lingua della verità è tanto vero che la lingua della verità dice il vero che quel fondamento di tutte le cose che diceva Pitagora fosse il numero che nome ha in italiano il nome nome vuol dire Dio Ro ma Ro è un numero Ro è il numero sedici perché la sedicesima lettera di questo alfabeto italiano la R il suono sto parlando io la massima vibrazione possibile della lingua la massima vibrazione possibile della lingua sono proprio quelle unità che sono sedici ovvero quanto due alla quarta la potenza quattro è quella della realtà spazio-temporale la base due è il nostro modo di vedere la realtà attraverso un complesso di opposti come tutto e niente questa opposizione che è Dio l'unità di Dio non è data da una unità ma da una coppia perché? perché uno non è un prodotto numerico a sé stante è un rapporto tra enti uguali n fratto n è uno qualunque sia il numero n un numero qualunque elevato a zero è uno qualunque sia la base vedete il numero che è il fondamento è realmente il fondamento di tutto è realmente nell'ordine stesso di un Dio che ordina attraverso questo numero questo Dio che poi è è quel Cristo Christos Chi Ro Chiro quello qui a Ostigliano quello qui nel Cilento perché dunque la necessità di questo ritorno di Dio per quello che nel romanzo Quo Vadis già fu accennato Pietro alla fine arrivato a Roma stava andando via da Roma perché temeva che a Roma lo crucifiggessero e nel romanzo voi dite ma è un'opera umana ma non c'è niente di opera umana ogni opera anche quella che sembra scritta dall'uomo è scritta da Dio che crea creatori di creatori di creatori ma alla fine l'unica creazione è sempre quella di Dio per cui nel Quo Vadis quando il personaggio di Pietro incontra un bambino che gli chiede ma dove vai e Pietro gli risponde vado via eccetera gli dice il bimbo che lui sta andando a Roma perché si deve far crocifiggere nuovamente perché Pietro se ne va ecco questo racconto è stato proprio riferito a quello che sta accadendo adesso gli ultimi pappi sono Pietro che se ne vanno sono i Pietro che hanno talmente abbracciato la logica dell'uomo e che si sentono talmente coinvolti in dover fare le cose che se non le facessero loro Cristo non le farebbe che sono coloro che abbandonano Roma Roma o l'amor è la stessa cosa è la forza del singolo o la forza della famiglia e li ho già detto sono espressi in me amodeo romano è l'amor che dà la precedenza alla famiglia dell'amo come io sono amore mentre invece Roma è chi in Rom ha dà la precedenza alla persona del Rom rispetto all'amore tutte queste cose sono scritte quando voi sentite e sapete è dall'Egitto che ho tratto mio figlio e voi pensate al figlio Gesù e poi io vi faccio pensare che quel figlio Gesù nella sua completezza e nella pienezza dei tempi si è benesimato in me e io vi dico che in me Rom romano in me c'è chi è stato tratto dall'Egitto dei faraoni dei ficati Ram è il romano Amodeo voi ditemi è una combinazione ma come è una combinazione Abramo non ha forza dentro Abram Brama che cosa ha forza la forza dell'altro mondo del buddismo il Karman cosa ha dentro come forza se non il Romano la forza dell'altro mondo tutto questo è stato indicato nel mondo a rappresentanza di quello che sta accadendo ora di questa seconda fase del disegno che sta diventando reale e che ispira di se stesso tutta la storia significativa dell'antichità con riferimento soprattutto all'Egitto sapete quando è stato scoperto il sarcofago di Ramset è stato scoperto nel 3330 3330 anni dopo e questo 333 non può non illuminarvi nefertiti moglie di chi del primo faraone che fissa nel sole il dio unico lui lo chiamava Aton ma è stato il primo segno del ra dio sole è dio sole unico che poi ha unificato anche l'ammon ra e così facendo tra Ramsete amon e ra assieme ad Aton si creano i presupposti salienti scritti nei nomi della realtà da questo dio che si fa precisare scritto nella realtà per quanto ha riguardato la presenza in me romano amodeo ram quel ram che per altri versi nei computer è la memoria rom o ram sono le due memorie una di tipo di fondo un'altra momentanea l'XP che è Kiro che è Cristo e che è nel sistema Windows tutti questi segni sono segni reali che in questo momento è iniziato che cosa il momento per ritornare alle origini io vi sto facendo vedere il monte della stella perché in questo luogo è nato lo spirito santo della verità divina quella che va oltre le apparenze quella che fa riconoscere nella realtà non quello che è precario momentaneo passeggero ma quella verità fondamentale immutabile che è l'essere l'essere quello immutabile quello che non è condizionato dal divenire è l'essere che appartiene a livello superiore del Dio Yahweh del Dio dell'essere a quel livello del creatore di questo nostro creato noi finalmente dobbiamo uscire da questo creato per avvalorare non la creatura ma il creatore che è in noi solo in questo modo l'uomo riesce a salvare la sua vita solo questo deve essere quello che è fatto ora e solo questa è la novità assoluta di cui c'era bisogno per riuscire a consentire la fine del sacrificio di Dio che si immola per tanti uomini che non lo riconoscono vero in sé pur vedendosi essere che credono che il loro essere sia quello del movimento del burattino indipendentemente dal burattinaio che lo muova una cosa assolutamente impossibile non può esistere un Pinocchio non può esistere un Renzo e Lucia nei rispettivi romanzi di Pinocchio e Promessi Sposi se non vivono della vita il primo del Collodi il secondo del Manzoni la vita di Pinocchio la vita di Renzo Lucia fa Cristoforo sono vite che esistono se il loro creatore ha rinunciato alla sua vita per fare esistere la vita dei personaggi ma questi personaggi da sé non vivono in un romanzo giallo il romanzo non esiste nei personaggi è il creatore che esiste nei personaggi e fa esistere anche l'assassino fa esistere anche chi tenta di imbrogliare chi tenta di compiere ogni malefatta in pratica questo creatore è un reo perché per animare una bella partita tra l'ingiustizia e la giustizia tra il bene e il male crea presupposti ideali in cui queste cose esistano in un divenire teorico in un divenire illusorio ma è illusorio lo scrittore di romanzi gialli non è un assassino se studia a lungo quale possibile delitto quale possibile atrocità possa essere compiuta non è un assassino però nel preciso momento nel quale si pone come un padre che per rendere possibile una vittoria deve considerare e fare in modo che esista anche la sconfitta accetta di compromettersi e fa esistere il bene e il male come una lotta reciproca ecco io sto esaltando in questo momento della mia vita questa funzione di un dio rio di un dio reo che si appropria di tutto il male e bene che esistono al mondo e dice all'uomo guardate che è tutta e solo opera mia è tutta e solo opera di dio del creatore e non della creatura che unicamente condivide unicamente osserva unicamente si appropria come attore di questa parte da interpretare voi siete oggetto solo della interpretazione di una parte già scritta e siate felici di questa mancanza assoluta della libertà fattiva perché dio si deve qualificare come l'unico vero responsabile della vita per questo l'uomo deve avere povertà di spirito perché deve riconoscere che nulla dipende dall'uomo non si inebri di essere buono o di essere virtuoso o di essere no perché se si appropria di questi meriti li toglie a dio è invece molto molto più facile all'assassino al furfante alla prostituta alla meretrice a chiunque compie opere di male che inevitabilmente attribuendo come tutti a se stesso queste azioni riconosciute indubbiamente colpevoli da ciascuno nel preciso momento in cui ciascuno le attribuisce a se stessi come colpa toglie la colpa a dio sacerdoti voi che credete di essere i seguaci di dio e che lo imponete come un fardello sulle spalle un fardello che poi voi non volete portare voi che vi appropriate di questi meriti che credete che dio vi ha concessi per fare la sua mano voi nel preciso momento in cui lo fate credendo di essere voi a farlo vi state appropriando del merito che appartiene solo a dio voi siete più colpevoli di quanto non sia un furfante che attribuisca a se stesso la sua colpa per questo quando arriverà il momento di un giudizio voi vi sentirete più in colpa di quanto non si senta chi essendosi addossato della colpa di dio l'ha portata assieme a lui se ne è caricato lui e non l'ha attribuita a dio vedete è difficile da capire quel mio stesso padre è nato il 7-7 del 1907 e che io non posso non riconoscere come lo spirito santo della verità di dio non è stato reso capace da dio da dio padre che di dire io bisogna che creda perché credo se mi metto a pensare e a osservare tutto il male che esiste nel mondo io perdo la fede era sovrastato il mio povero padre dal disegno da quanto era nel disegno e non riusciva a scoggervi una volontà del padre di creare una possibile partita per una possibile vittoria questo dovete arrivare a capire in me quel contrasto che vedete in me tra cose enormi grandiose uniche che dio mi ha fatto in apparenza fare nella mia vita e quelle cose così deboli precarie legate alla mia umanità legata anche alla mia incapacità di esprimervele come ve le esprimerebbe un grande attore la vedete la scorgete in me che vi parlo quella incapacità di esprimere come si dovrebbe le cose che vi sto dicendo non mi sembra un po' che io reciti eppure io non sto recitando io sto semplicemente trasmettendo a voi quella verità di dio che dio mi ha detto di esprimervi però non sono capace di esprimervela senza che la mia umanità mi porti a quella incapacità di esprimervela ripeto come farebbe un grande attore che saprebbe dare peso alle parole tale peso da avere un credito ma perché sono rio perché io stesso sono l'immagine del bene e del male messo dal creatore nella mia vita perché fosse di esempio a voi io quello che vedete presente in me sono il solo colpevole che si carica addosso di tutte le colpe e che grazie al fatto che dice io sono rio io sono reo le togli a voi le togli a voi in combinazione con l'essenza pura del figlio perché le colpe sono due io vi tolgo quella vera quella reale ma poi rimane quella colpa del cuore che è la reazione vostra libera quella del vostro gusto di fronte alla vita che siete chiamati a fare voi potete parteciparvi condividendola con le vostre intenzioni oppure no se la condividete con le vostre intenzioni e la vita che state commettendo è una vita colpevole avete la colpa del cuore che è pari alla vostra libertà bene il puro Gesù che è in me vi perdona di questa colpa grazie alla sua morte io invece vi tolgo la vostra colpa del tutto non ve la perdono ve la elimino perché vi dico il fare non esiste vi dimostro che la vita è vista avanzare in base a una retrocessione a un disfarsi dei gesti della vita una vita che si disfa genera la percezione opposta di una vita che si fa laddove fare e disfare sono solo semplici modi di apparire di uno zero che diventa uno o di uno che diventa zero quando invece esiste sia lo zero sia l'uno il divenire dallo zero verso l'uno e dall'uno verso zero non esiste esistono solo tutte e due le possibilità zero e uno ed è proprio sulla loro base su questo complesso coesistente che poi si crea il dio onnipotente che è tutto cioè l'intero ma è anche niente lo zero in atto però tutto in potenza lo zero in potenza è l'unità e quindi il nostro mondo questo che vedete combinato qui nella nostra realtà non è altro che l'ipotesi resa reale dalla percezione di condizioni progettuali che sono state attribuite a ciascuno e non vi condizionano se non nella loro ottica diveniristica tale che poi voi ne vedete solo un pezzettino ma non potete immaginare che per voi valga solo quel pezzettino per tutti vale il sistema onnipotente di tutte le possibilità perché è un sistema unitario ecco voi oggi dovete smettere e vi ho dimostrato per quali ragioni di concepirvi in questo disegno precario in cui tutto accade nel tempo opportuno partito da lontano da Ramset da Dio Aton da Ra da Amon da Abramo chiamato Brama in altre parti del mondo in questa divina commedia che si sta svolgendo dovete rendervi conto che calati in questo momento siete solo in una parte dovete capire dovete abbrecciare l'amore a partire dalla parte da tutta la parte che vi manca e dire quello che io oggi non ho lo avrò perché questa ripartizione è solo un modo di vedere di chi è diviso però è interattivo con tutti gli altri e attualmente sta osservando la sua divisione mentre invece vale l'interazione io sono soltanto al centro di una prodigiosa opera di conoscenza grazie al quale poi il Dio uno diventa onnipotente perché si è fatto tanto piccola cosa che poi ha davanti a sé come connaturato il suo paradiso